Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. In questo video di oggi voglio iniziare una serie un po' particolare che in questo canale non abbiamo mai visto effettivamente. Diciamo che magari porterò qualche contenuto simile ma voglio iniziare un vero e proprio format di questa tipologia. In sostanza vi voglio portare dei contenuti in cui spiego dei possibili modelli di business che possano realmente funzionare per iniziare a guadagnare in maniera seria e concreta. Vengo a sottolineare il fatto che queste attività che vi proporrò in questi video non sono cose trovate così per caso ma sono cose che effettivamente ho guardato con molta attenzione per le quali ho cercato anche varie informazioni e ve ne renderete conto nel video stesso perché si tratta effettivamente di sistemi di business che realmente possono funzionare ragazzi parlo nella vita reale, in sostanza non vi parlo di semplici idee buttate lì che magari sono alquanto discutibili o che magari sono difficilmente realizzabili ma vi parlo di progetti seri e concreti e vi anticipo inoltre che io in prima persona proverò alcuni di questi business chiaramente non posso provarli tutti sia per una questione economica sia per una questione di tempo ma insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi capirete meglio di che cosa sto parlando. Vediamo oggi quindi il primo di questi business che vi porterò sul canale anticipo che si tratta di un qualcosa che si può realizzare anche con un capitale veramente molto basso parliamo di circa 5-6 mila euro ovviamente si tratta di un business estremamente scalabile e soprattutto cercherò di fornirvi quante più informazioni possibili per rendervi conto effettivamente di come funziona questo business di come poterlo avviare e così via prima di iniziare però mi raccomando lascia un bel like iscritti al canale se non l'hai già fatto perché è completamente gratuito ragazzi però fareste tantissimo veramente per me ricordo inoltre che se volete restare sempre aggiornati un po' su tutto quanto vi lascio qui sotto in descrizione il link per il mio canale telegram il mio profilo instagram, il canale tiktok insomma trovate tutto quanto lì sotto sigla e si parte subito allora qual è questo fantomatico business di cui sto parlando e di cui chiaramente vi darò più informazioni durante questo video sto parlando dei rivenditori automatici in che senso rivenditori automatici avete presente quando non lo so andate all'università andate all'ospedale andate in qualsiasi posto dove ci sono delle macchinette quindi dove potete acquistare degli snack dove potete prendere un caffè una cioccolata calda non lo so un tramezzino ecco sto parlando proprio di quei distributori automatici magari vi lascio una foto qui in sovraimpressione non lo so come funziona praticamente questo business? in sostanza bisogna acquistare uno o più distributori automatici andarlo a disporre in un determinato posto ovviamente più è affollato il posto comunque più persone passano di lì e più ci sono probabilità che acquistino i vostri prodotti all'interno della macchinetta che siano bevande o che siano snack insomma ebbe meglio scegliere un posto con una buona utenza e una volta fatto questo una volta quindi disposta la macchinetta una volta chiaramente ricaricata la macchinetta stessa di snack o bevande bisogna semplicemente aspettare che gli utenti passino e acquistino i vostri prodotti il vostro guadagno chiaramente sta nel fatto che rivenderete i vostri prodotti con un buon margine di guadagno rispetto a quanto li avete acquistati all'ingrosso ma ovviamente ragazzi lo sapete a me non piacciono queste cose dette e lasciate così quindi mi sono informato meglio perché mi sembra veramente un'idea di business molto interessante e anche molto scalabile e adesso andiamo a vedere tutto quanto meglio al pc vi faccio vedere tutte le informazioni e i dettagli più nello specifico allora qual è chiaramente la prima cosa da fare la prima cosa ovviamente è munirsi di un distributore automatico in questo caso abbiamo due strade differenti la prima chiaramente è quella di andare ad acquistare un distributore nuovo il distributore nuovo ovviamente diciamo ci dà la garanzia che sia nuovo avremo anche la garanzia del produttore per quanto riguarda appunto la costruzione della macchinetta stessa però chiaramente dall'altro lato avremo dei costi iniziali sicuramente maggiori rispetto ad esempio che acquistarla usata ad esempio se andiamo su ebay io sono andato qui e ho cercato distributore automatico di snack e poi distributore automatico di caffè questo perché chiaramente come ben sapete si tratta di due macchinette completamente differenti ok quindi ci sono quelle per le bevande e quelle per gli snack andiamo a vedere quanto può costare un distributore automatico di snack qui ovviamente sono andato a mettere dal prezzo inferiore vediamo che ad esempio abbiamo un primo distributore a 750 euro andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta ok in questo caso addirittura sono dei distributori doppi uno per gli snack e uno per le bibite quindi caffè, bevande calde in questo caso veramente un ottimissimo prezzo si tratta praticamente di un prodotto funzionante a quanto pare tranne praticamente una cella frigorifera quindi veramente ottimo soprattutto a questo prezzo ovviamente considerate che bisogna aggiungere sempre la spedizione quindi tenetene conto perché non si tratta ovviamente di 10 euro di spedizione ma ecco come esempio vedete se il Roma è provincia a 100 euro altrimenti bisogna fare una quotazione che sicuramente sarà più alta per andare però a vedere dei prezzi un po' più reali magari andiamo a vedere qui ad esempio abbiamo un distributore a 850 più 150 di spedizione qui abbiamo un altro distributore a circa 950 euro e così via in media quindi direi che un distributore di snack più o meno si può trovare tra gli 800 e i 1500 euro andando invece per quanto riguarda il distributore di caffè andiamo, continuiamo a guardare ad esempio qui troviamo un distributore a 629 euro veramente ottimo usato, revisionato e con tre mesi di garanzia ovviamente in questo caso si tratta di una macchinetta relativamente piccola però senza dubbio a questo prezzo può essere molto interessante vedete viene data una descrizione molto molto approfondita dell'oggetto ovviamente ragazzi dovete dare un'occhiata prima di acquistare occhi chiusi fatevi un attimo due conti cercate di vedere un po' di che cosa si tratta andiamo a vedere altri distributori qua ne abbiamo un altro a 650 euro molto simile al primo tra l'altro in sostanza come vedete anche 700 più ovviamente le spese di spedizione quindi per quanto riguarda i distributori di caffè abbiamo un prezzo medio per quanto riguarda l'usato che si aggira tra i 700 e i 1000 euro quindi addirittura anche un po' più economici rispetto a quelli di snack ovviamente poi nasce un problema fondamentale quali sono chiaramente le cose necessarie per poter iniziare la propria attività ok quindi ci sono dei permessi che servono ovviamente sì innanzitutto è necessario assolutamente aprire partita iva quindi ovviamente non possiamo metterci lì a lavorare a nero o comunque è una cosa che ovviamente per legge non si deve fare quindi sicuramente prima cosa è necessario aprire partita iva tra l'altro ragazzi se volete aprire partita iva oppure avete bisogno di un consulente vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link per iscrivervi a Fiscozen con un bellissimo sconto se vi iscriverete con il mio link tra l'altro potete fargli qualsiasi domanda quando volete quindi insomma se avete queste necessità vi consiglio di approfittarne andiamo però a vedere oltre alla partita iva che cosa serve per aprire un distributore automatico e iniziare effettivamente a vendere il requisito fondamentale è quello di presentare al suo app la segnalazione di certificata inizio attività in sostanza questa certificazione permette di avviare l'attività di distribuzione degli apparecchi altra cosa fondamentale è necessario capire dove andare a situare questi distributori ora ragazzi per quanto riguarda il posto in cui andare a effettivamente posizionare i nostri distributori abbiamo due alternative prima alternativa è quella di andare in dei posti che sono già frequentati per esempio all'interno di un'azienda per esempio all'interno di un ospedale per esempio nel negozio di un amico di un conoscente di un familiare e così via e proporre chiaramente il proprio servizio quindi non lo so io conosco il proprietario di un negozio X o di un'azienda o comunque chi gestisce una determinata catena insomma chiunque voi conosciate o comunque con chiunque possiate avere un minimo rapporto andate lì e gli proponete di andare ad installare il vostro distributore automatico e chiaramente per incentivare la sua risposta positiva andrete a proporre una certa percentuale delle vostre entrate quindi ad esempio non lo so gli dite guarda io metto il mio distributore qui visto che comunque in questa piccola azienda voi avete 10 dipendenti e non sapete come andare a prendere il caffè se non andando al bar io ci guadagno chiaramente però ti faccio avere non lo so il 10% di quello che guadagno ovviamente ragazzi sto facendo degli esempi totalmente a caso anche per quanto riguarda le percentuali quella è una cosa che poi dovrete gestire voi e chiaramente se accetteranno avrete la possibilità di installare lì i vostri distributori altra opzione altrettanto valida ma per cui è necessaria un qualcosa in più adesso vi spiego meglio è ad esempio andare ad utilizzare un piccolo locale che possedete già anche semplicemente un monolocale da 25 metri quadri o cose del genere e andare ad installare al suo interno tutti i vostri distributori in questo caso però si tratta di un'attività in cui si va solo ed esclusivamente a vendere dei prodotti in questo caso bevande o prodotti da mangiare e in questo caso specifico sarà necessario oltre alla segnalazione di certificata inizio attività richiesta una certificazione specifica per la vendita di alimenti e bevande quindi mi raccomando ragazzi importantissimo una volta fatto ciò rimanono due cose fondamentali andiamo per ordine e ovviamente la cosa principale è il rifornimento avete quindi la necessità di andare a trovare dei rivenditori che possibilmente vi facciano risparmiare il più possibile così andrete chiaramente ad aumentare il più possibile il vostro guadagno io ad esempio facendo una ricerca molto veloce sono andato a trovare dei rivenditori online all'ingrosso per esempio andiamo su questo sito qui che se volete vi posso anche lasciare in descrizione comunque lo vedete capitano in grosso sono andato a cercare ad esempio delle rivendite all'ingrosso per quanto riguarda gli snack per fare un esempio molto banale vediamo i prezzi di cose all'ingrosso ad esempio Kinder Bueno 30 pezzi 19 euro e 36 un Kinder Bueno alla macchinetta si trova spesso solitamente anche a 1 euro e 50 ok? quindi facciamo due calcoli veloci a noi verrebbe 19,36 diviso 30 quindi un Kinder Bueno a noi verrebbe a costare circa 65 centesimi se lo andiamo a rivendere a 1 euro e 50 avremo un guadagno di circa 85 centesimi per ogni singolo Kinder Bueno che andiamo a vendere chiaramente questo ragionamento se andiamo a vendere 10 Kinder Bueno ci farà guadagnare appena 8 euro e 50 ma se andiamo a vendere 1000 Kinder Bueno per fare un esempio in tutto il mese andremo a fare un guadagno di ben 850 euro ovviamente ragazzi queste non sono delle stime reali sto facendo semplicemente degli esempi per farvi comprendere il concetto e le potenzialità di questo business per quanto riguarda invece il caffè ad esempio ho trovato un altro venditore che in questo caso nello specifico vende ad esempio 1200 child di caffè Borbone Rosso quindi parliamo comunque di un ottimo prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo ad appena 169 euro e 60 in questo caso ogni singola capsula avrebbe un valore un costo di 0,14 centesimi come ben sappiamo un caffè in una macchinetta al giorno d'oggi viene venduto tra i 60 e i 90 centesimi facendo un prezzo medio quindi di circa 70 centesimi abbiamo un profitto per ogni singolo caffè venduto di ben 56 centesimi anche in questo caso è chiaro che se vendiamo semplicemente 10 pezzi andiamo a guadagnare appena 5 euro e 60 ma se vendiamo 1000 caffè ragazzi andiamo a fare 560 euro di profit cosa importante che vi volevo sottolineare è che guardando online cercando tra varie statistiche mi sono reso conto che alla fine quelle che tendenzialmente rendono di più sono le macchinette relative ai caffè o comunque alle bevande calde a quanto pare soprattutto in Italia gli utenti sono sicuramente molto più portati ad andare ad acquistare articoli di questa tipologia quindi parliamo ripeto di caffè, cioccolata calda, tè e così via questo che invece snack, patatine e cose di questo tipo tra l'altro come abbiamo visto per quanto riguarda i costi di base dei distributori di caffè e di bevande hanno inizialmente un costo nettamente inferiore rispetto a quello invece degli snack questo insieme al fatto che comunque i consumatori preferiscono di gran lunga l'acquisto di caffè sicuramente ci dà un indizio o comunque ci dà un consiglio su che cosa puntare soprattutto all'inizio io personalmente ad esempio sicuramente inizierei con dei distributori automatici di bevande ovviamente ragazzi non è finita qui perché come ultima cosa fondamentale rimane la questione della manutenzione infatti sarà necessario soprattutto per quanto riguarda le macchinette di caffè andare a fare una manutenzione almeno a cadenza mensile per far sì chiaramente che tutto funzioni in maniera corretta e soprattutto che la macchinetta non sia eccessivamente sporca quindi che mantenga uno standard di qualità abbastanza elevato perché è chiaro ragazzi se la macchinetta diventa brutta se insomma non fa il caffè buono e quindi gli utenti non sono contenti non verranno più ad acquistare il caffè nella vostra macchinetta quindi mi raccomando è importante mantenere degli standard alti di qualità a questo punto vi starete chiedendo ma quanto effettivamente si può fare con queste macchinette? allora ragazzi non è una risposta a cui si può rispondere in modo così semplice questo perché chiaramente si tratta di un valore che può variare moltissimo in base a tanti fattori in base a dove andate a posizionare le macchinette in base alla tipologia di utenti che ci sono in quella zona in base a quanti utenti effettivamente vanno ad acquistare i vostri prodotti in base alla tipologia di macchinetta perché magari ci sono quelle che hanno bisogno di più assistenza quelle che hanno bisogno di meno e così via in ogni caso ragazzi per dare un valore intuitivo il guadagno per quanto riguarda i distributori di caffè può essere tra i 20 e i 40 mila euro annui in media ovviamente potete considerare ovviamente che ci sono tantissime variabili quindi può essere anche un valore notevolmente più basso o notevolmente più alto la cosa importantissima ragazzi che voglio su cui voglio soffermarmi è che si tratta di un business altamente scalabile perché se voi cominciate ad utilizzare non più uno soltanto ma magari due, tre, quattro, cinque macchinette magari alternando facendo non lo so due di snack e tre di bevande avete la possibilità di fare scalare notevolmente il vostro business e di portarlo veramente ad altissimi livelli bene ragazzi il video per oggi termina qui è stato un video magari un po' più pesante del solito io però spero veramente che vi sia piaciuto anche perché sono stato veramente molto tempo a cercare informazioni per fare questo video per avviare questo business fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi piacciono intanto i format di questa tipologia in cui vi parlo di business reali ragazzi da poter avviare realmente per poter iniziare a guadagnare in modo serio fatemi sapere inoltre se ne pensate nello specifico di questo business di cui vi ho parlato oggi e per qualsiasi dubbio o domanda o se avete altri business da consigliare fatemi sapere qua sotto nei commenti noi ci becchiamo alla prossima